Ciao, questo è Stefano Pucello da Rykot Microphone Windshields, siamo qui a Broadcast Asia 2012 in Singapore. Un prodotto che vorrei mostrare da Rykot, che è una delle nuove addizioni, sono le sospensioni per la serie MKH8000 Ora, il MKH8000 viene con un modulo externo, il MZX8000, che permettono ai microfoni ad avere una connessione con il 3-pin. Ciò che abbiamo fatto, per farlo anche più piccolo, è eliminare il MZX8000 e attaccare il MZL, che è un'altra parte del Cenoise. Ma, in additione a questo, come tutte le altre sospensioni che Rykot fa, c'è una connessione. Quindi il MZL è un cable integrato della connessione che attenuita il ruolo di cabello, il ruolo di meccanico che viene dal ruolo di cabello. All'interno di questo, puoi mettere un blocco estendente. Quindi, come puoi vedere, sarà una soluzione abbastanza compatta per una piccola capsula come la MKH850. Per più informazioni su questa soluzione e altri prodotti da Rykot, selezionate a www.rykot.com e ci vediamo l'anno prossimo anno, a Broadcast Asia 2013. Grazie molto! Grazie a tutti!